Quest'anno è particolarmente importante fare il vaccino anti-influenzale per proteggere te e gli altri da questa malattia seria. Il virus dell'influenza e del Covid-19 hanno sintomi simili, come la febbre alta e la tosse continua. Quindi è importante fare il vaccino e continuare a seguire le indicazioni di sicurezza. Fai un test ed isolati se hai sintomi del Covid-19. Se hai diritto al vaccino gratuito, il tuo GP ti contatterà. Chiameranno prima le persone ad alto rischio, a settembre e ottobre, e gli altri a novembre. Prenota il vaccino appena il GP ti chiama. Se pensi di non aver visto l'invito del GP, chiamalo. Vaccinati per stare bene e proteggere le NHS.